bambi ahahah eccoci signori siamo qui nella cittadina di Rimini ai pressi di nel nostro albergo c'è questa medica sala giochi il nostro albergo abbiamo disposto a noi il medico calcio che si stessi in un doppio passo con Mimmo qui sono scooter praticamente è come portare un super mezzo con una sala di caffette per la frutta dietro e un frigorifero ma cambiamo visuale adesso e voglio inquadrare l'idea di palera l'altro ce l'ho vicino qua dietro cambiamo ecco passiamo per il mastodonte smilodonte trippomonte poi da quest'altra parte c'è Alberto tomba che è apparato malamente si signori e adesso ecco che ritorniamo all'omicidio colposo si riprende è viva è alla partita di che ecco cangiano butta 10 euro e parte cangiano è in pista la tiene tutta per si vai col ginocchio a terra poi la curva a sinistra molto lenta molto lenta la tiene bene di nuovo a destra cercata di oh oh nella curva cangiano c'è il re cangiano signori il mezzo è tutto per lui ancora cangiano è meglio di meglio di Rossi attenzio che succede qui ranger mission la missione per Antonio Corbino direttamente dal Burkina Paso vediamo la foresta intanto qui arriva Tontina aspetta aspetta